salve a tutti ciao a tutti ragazzi oggi cominciamo il tesi glover show 2023 no non facciamo proprio l'inizio ma annunciamo i cartoni animati che faremo nel 2023 come top wing oppure altri cartoni animati e non diciamo adesso però vi diremo allora questa stagione inizia domani giusto ragazzi ci anticipiamo il 2023 ragazzi il 2022 l'abbiamo già i primi cartoni che recensiremo futurama superchicche steven universe in origine questi cartoni dovevano entrare su tesi glover show estate ma poi abbiamo deciso di farli su tesi glover show 2023 che inizierà a settembre del 2023 ovviamente settembre 2023 no nel settembre del 2022 già ragazzi non c'è e tra poco inizierà la scuola ciao a tutti ed è il momento perfetto per recensirli e noi faremo tanta compagnia ciao